...la presentanza di musicanti e di tradizioni contadine, Bergamo Folter. Ed ecco il carro dei piccoli pirati del lago di Endine. La scuola dell'infanzia a casa dei bimbi di Endine Gariano propone il veniero dei piccoli pirati del lago di Endine. La scuola, oltre a raccogliere tre centenari campi, non rispettate, partecipa a questa manifestazione cercando di essere un po' di 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 un po'. Non mi va, non mi va, non mi va, non mi va, non mi va. C'è un'esposizione di pirati, che ritrovi un pevai, dentro il latte la mattina, nei biscotti nel caffè, nei carai più suggestivi. La cultura perdita, che ritrovi un po' di 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 un po Grazie a tutti